Per i tuoi eventi, matrimoni, compleanni, comunioni, addio al nubilato celibato, eventi live canori, karaoke, feste per bambini, lauree, serate neocali e tanto altro ancora. Solo vende per me, vuol dire che vada, non mi direi più di no. K2 Sound Karaoke realizzerà tutto secondo le vostre esigenze, proponendo la soluzione più idonea per creare un evento appropriato. Tu chiedi, K2 Sound realizza. Dove c'è aria di festa, il tuo K2 Sound vi eletterà con eleganza e simpatia, che trascinerà tutti nell'allegria di una serata spensierata. Palli di gruppo Karaoke Con K2 Sound Karaoke, il divertimento è di casa. L'amico di Piero, ma Piero chi? L'amico di Giosuè, ma Giosuè chi? In genuata appena suonano, chi è io? K2 Sound di Ernesto Zaccone e Giuseppe Mannino Info e pronotazioni al 334-96-47-313 oppure al 329-35-61-357 K2 Sound Karaoke Tutto presto in ombra Tutto presto in ombra